Per noi è un momento bellissimo, è un'annata speciale, perché siamo ritornati in Europa dopo 20 anni, abbiamo fatto un percorso importante, vincendo 8 partite di 14 giocate, pareggiandone 4, andando ad espugnare il San Mames, cosa che nessuno aveva mai fatto prima di noi. Il Napoli quest'anno è stato eliminato dal Bilbao nei preliminari, quindi direi andare a vincere là non era certamente facile. E poi abbiamo rivinto il derby, che comunque è una bella cosa per noi, Granata ci tenevamo molto, però oggi è la serata della primavera del settore giovanile, quindi io faccio ancora grandi complimenti. Devo dire che mi è piaciuta la squadra, poi sulla squadra che in certi momenti si vedeva un gioco bellissimo, sempre pallaterra, fraseggi importanti, decine di passaggi, insomma, devo dire veramente. E poi un grande cuore, una grande voglia di vincere e di non mollare. Quindi complimenti, vorrei fare complimenti a tutti senza citare nessuno in particolare, anche se poi Morra, insomma, con la tripletta della semifinale contro la Fiorentina, ovviamente merita una citazione speciale, ma anche Rosso, che devo dire, sta crescendo partita dopo partita, ma come lui tanti altri. Perché stasera mi ha colpito Mantovani, che ha fatto una partita veramente eccellente, Zaccagno, che ha salvato in un paio di occasioni il risultato, ma anche, vorrei dire, Zenuni, piuttosto che De Belieu, che ha lottato e non ne perdeva una, ne prendeva tutte lui. Quindi, piuttosto che, insomma, devo dire, abbiamo avuto una squadra che ha fatto una gran bella partita, Fissore, il Capitano, che ha fatto benissimo anche lui, insomma, tutti, devo dire, tutti quanti hanno fatto bene. Edera, che è entrato benissimo, che è un nostro giocatore giovane di prospettiva. Insomma, credo che veramente abbiamo una bella squadra con tanti giovani che poi hanno un bello spirito. La cosa bella è anche questa, che vedo una squadra, un gruppo di ragazzi veramente molto uniti, molto legati, molto motivati. Oggi si corona comunque praticamente un decennio da dopo il fallimento. Io l'ho sempre detto durante tutto questo periodo. Non dimenticate che non è stato facile ricostruire da zero un settore giovanile, quindi il merito di questo va sicuramente al presidente Cairo, ad Antonio Comi, a Benedetti e a Bava per averlo ricostruito e per averlo riportato ai vertici. Il mio percorso è stato un percorso di gavetta. Ho cominciato dai dilettanti e ogni anno mi sono guadagnato, penso, sul campo con i risultati, la possibilità di avere un'opportunità sempre migliorativa per cercare di puntare sempre ad obiettivi più alti. Per quanto riguarda la nostra politica di mercato, è una politica che riguarda sicuramente l'investimento prima di tutto sul territorio e poi su profili di giocatori che secondo noi hanno ancora qualcosa da dare rispetto magari al giudizio di qualche altra società. Questo è il nostro mix di situazioni che ci ha portato oggi a essere qui, a essere per la seconda volta in finale e soprattutto dopo 23 anni aver riportato lo scudetto a Torino che penso che in fatto di storia di settore giovanile non abbia uguali.